L'inno alla gioia scada l'atmosfera dell'annuale Assemblea Ambi che si svolge al Carpegna Palace Hotel a Roma. Un'Assemblea che è un cagliere d'oleans per la situazione climatica che nel nostro paese vede un nord sotto bombe d'acqua e un sud dove la siccità, come in Sicilia, sta facendo morire animale, agricoltura, turismo. Scopo dell'Assemblea è disegnare il futuro della gestione idrica e dell'assetto idrogeologico del paese. Presenti ministri, istituzioni, rappresentanti di enti, imprese. Apportato il suo assoluto anche il ministro Tajani. Signore ministro, tutti i paesi europei si trovano in grave difficoltà per le condizioni climatiche totalmente cambiate, quindi l'Europa come intende muoversi? L'Europa deve avere una politica ambientale che non sia né negazionista né fondamentalista. Bisogna fare delle scelte pragmatiche che diano un contributo alla lotta al cambiamento del clima, tenendo conto della questione sociale, tenendo conto delle esigenze industrie e agricoltura che devono evolversi, ma prima bisogna trovare le soluzioni e poi imporgliele. Se prima si impongono delle scelte senza avere la soluzione, si rischia di aprire un problema sociale che rischia di farci perdere decine e decine di migliaia di posti di lavoro. L'Italia divisa in due, il nord abbiamo visto il maltempo, ma c'è la Sicilia che si sta desertificando. Questa è purtroppo la situazione, bisogna fare in modo intanto, tutelando l'assetto idrogeologico, che non ci siano danni al nostro patrimonio agricolo, ma anche alle nostre infrastrutture al nord e al sud, bisogna evitare la dispersione idrica e fare investimenti come sta facendo bene la regione Sicilia. Ma sentiamo le interviste che ci raccontano di un momento drammatico che sta vivendo il paese tutto. Presidente, la rete dei consorsi di bonifica ha valore strategico per il paese. E in un momento in cui abbiamo visto cosa succede con il clima, allora sì, è vero proprio. La rete è un elemento indispensabile che serve per dare respiro e soprattutto visione a questo paese. Un paese che deve riprendersi il ruolo fondamentale di investitore, investimenti che servono per garantire la sicurezza del territorio e l'approvvigionamento dell'acqua in rigua. Se facciamo questo il paese è traghettato in un futuro migliore rispetto ai cambiamenti climatici che stanno condizionando in modo importante non solo la produzione agricola, la vita delle persone e l'economia dei territori. E' per questo che stiamo in questi due giorni mettendo al centro questa rete di 220.000 km di canali che può diventare un driver a livello nazionale e soprattutto per rimettere al centro questo paese in politiche di adattamento che servono poi anche a avviare gli investimenti e quindi posti di lavoro e sicurezza. Un'immagine anche nuova e diversa dal nostro paese. Tutte le volte lei giustamente parla dei posti di lavoro, parla dell'agricoltura. Noi stiamo vedendo cosa succede in Sicilia per esempio, Presidente. Come intervenire? Cosa fare lì? La Sicilia è la fotografia del nostro paese purtroppo quando vengono queste emergenze. Un paese che ha smesso qualche anno fa di investire e che purtroppo sta accorgendosi un solo tardi e ora quello che vuol significare i cambiamenti climatici. Occorre riprendersi questa capacità di investimento. Abbiamo avuto nel passato una capacità importante con la Cassa del Mezzogiorno. Dobbiamo riprenderci quella visione strategica, mettere in centro gli investimenti per dare risposta al nostro territorio. Ecco, con questo noi ci auspichiamo anche che la nuova programmazione lanciata ieri dal Ministro Salvini e grazie anche al Governo che ha voluto finanziare delle progettazioni importanti di rimettere al centro una visione che passi attraverso degli investimenti nei prossimi dieci anni per garantire una resilienza maggiore dei nostri territori rispetto ai cambiamenti climatici. Un'Assemblea nazionale con tanti, tanti rappresentanti dal territorio. Quindi da qui vi aspettate anche risposte? La caratteristica dei Consorzi Bonifici è proprio quella della prossimità e della sussidiarietà ai territori. È proprio questo che abbiamo rilanciato il ruolo fondamentale di questa rete di Consorzi che ci permette di essere sempre più vicini in un momento dove le istituzioni si stanno latonando dai cittadini, sempre più vicine alle esigenze sul dissesto e sul tema idrico dei cittadini e dei territori. Ecco proprio questo ci teniamo di essere fondamentali come interlocutori ma anche come soluzione per il Paese da uscire questo fenomeno di crisi. Presidente, momenti veramente difficili per l'agricoltura, per il bestiame e quant'altro? Sì, sicuramente è un momento particolarmente critico. Un'Italia spaccata in due, al nord un'eccessiva piovosità che ha compromesso in gran parte le produzioni nel settore ortofrutticolo e anche per quanto riguarda il settore cerealicolo. Nel mezzogiorno del Paese, soprattutto in quattro regioni, fra queste la Sicilia, la Calabria, la Puglia ma anche la stessa Sardegna, invece una situazione diametralmente opposta. Una siccità senza precedenti che anche in questo caso ha compromesso gran parte delle filiere produttive causando anche dei danni sulla filiera zootecnica in quanto purtroppo manca prodotto per una corretta alimentazione del bestiame. Stiamo creando tutti i meccanismi di collaborazione per far arrivare comunque prodotto in modo tale che le nostre aziende possano avere una forma di tranquillità per quanto possibile ma sicuramente dovremo intervenire in modo ancora più urgente e significativo in termini infrastrutturali. Per troppi anni si è parlato, oggi bisogna passare i fatti concreti e gli atti concreti anche in un rapporto con le regioni che hanno una competenza diretta per quanto riguarda sia la realizzazione di nuovi bacini di accumulo, sia per quanto riguarda la manutenzione di tutto ciò che già oggi è esistente ma anche per quanto riguarda le condotte. Nel 2024 avere ancora un Paese che mediamente perde il 50% dell'acqua trasportata io penso che sia un lusso che nessuno si possa permetterlo. In questo momento anche i consorsi sono molto preoccupati per quello che sta succedendo con le condizioni climatiche. Diciamo che dopo due anni di siccità, di grandi problemi, oggi al nord il tema vero è la pioggia e la neve che è arrivata. E' che anche oggi continua a piovere. Quindi abbiamo grossi problemi per quanto riguarda il problema dei raccolti perché addirittura dove è stato seminato oggi hanno dovuto riarare e riseminare un'altra volta. Quindi abbiamo questi grossi problemi però preferisco avere l'acqua che non averla. Oggi abbiamo il Lago Maggiore che è strapieno, abbiamo ciò che non succedeva mai nella Confederazione Svizzera che abbiamo avuto un'acqua addirittura anche di grossi problemi per quanto riguarda l'acqua e quindi stiamo dando una mano al canton Ticino e dobbiamo porci questo problema dei cambiamenti climatici perché altrimenti ragazzi non possiamo passare dalla siccità alle alluvioni e questo è il grosso problema. Credo che le discussioni che stiamo facendo oggi nelle assemblee dell'Ambi siano quelle anche di incominciare a ragionare, a far capire al mondo agricolo, ai nostri agricoltori che pagano l'acqua di essere in condizioni che quando prendiamo certe decisioni che sembrano o possono essere decisioni che non collimano con quelli che sono i loro programmi ma li facciamo per innanzitutto preservare l'acqua e in secondo luogo per cercare di garantire quella che è la produzione. Diciamo che al nord noi in questi ultimi due anni l'80% dei prodotti è stato salvato e quindi mi auguro che quest'anno riusciamo a portare a casa il 100%. Oggi vi ritrovate da tutta Italia in un momento molto difficile per il clima in un momento molto difficile per alcune regioni alcune come quelle del nord sovraffatte da quantità di acqua enormi e altre andando scendendo giù verso la Sicilia dove c'è la siccità. Eh sì, è l'argomento, siamo contingente, quello di cui si discute anche qui oggi e quel che emerge però è che non siamo più in una fase di cambiamento purtroppo ci troviamo nel clima che sarà a cambiamenti probabilmente già avvenuti e questo l'alternanza di questi due fenomeni quindi grande siccità oppure la convivenza anche in zone diverse del nostro paese quindi come ha detto lei nel nord grande piovosità e problemi legati quindi a troppa acqua e al sud invece siccità estrema che costringe addirittura come abbiamo sentito ieri allevatori a dover macellare i propri animali per non vederli morire di sete. Qui si sta diciamo discutendo e facendo delle proposte per non tanto per cambiare questa situazione ma per poterla affrontare diciamo per poterci adattare ad avere meno danni possibili da questo clima che ormai è un dato di fatto e con cui dobbiamo convivere. Sì ma per esempio si è sempre parlato degli invasi ma gli invasi vabbè quando c'è tanta pioggia non servono a niente ma giù in Sicilia non sono serviti questi invasi? Giù in Sicilia da quel che abbiamo potuto constatare ci sono molte opere fatte appunto per conservare l'acqua che magari però non sono state completate quindi non riescono ad avere una rete distributiva adeguata per portare l'acqua dove serve. D'altra parte al nord in particolare parlo per il Veneto non essendoci mai stata la necessità di dover avere acqua perché generalmente pioveva a bisogno tranne in alcune zone strutturate con irrigazione perché con una conformazione del terreno particolare non c'era mai stato questo tipo di problema. Adesso però ci troviamo ad avere anche noi la stessa necessità cioè fermare l'acqua quando ce n'è troppa per poi poterla utilizzare quando ce n'è meno e non è così facile come dirlo fare opere di questo tipo perché impattano notevolmente i territori parlo per esempio per il mio conto per il Veneto dove non c'è stata tanta attenzione per il passato verso questo argomento. Grazie a tutti. Grazie a tutti.